Comiso, si conclude la mostra di Giovanni Pace, pittore del puntinismo. Si conclude domenica, a Comiso, la mostra del pittore Giovanni Pace. Autodidatta, dedito alla pittura da quasi 30 anni, non continuativi, Pace trasmette nelle sue opere un profondo amore per il bello. Paesaggi assolati, prati verdi, scogliere che si gettano sul mare, scorci di panorami autunnali o notturni, c'è tutto questo nella pittura di un artista che si dedica alla pittura con una tecnica assolutamente personale, quella del puntinismo. Migliaia di puntini colorati, uno accanto all'altro, si sostituiscono alla pegnallata per offrire un dipinto che cattura immediatamente il visitatore. L'elemento del colore si fonde con una profonda luminosità che da esso traspare. La mostra, ospitata nella sala dell'ex agenzia Rosso, in via San Viaggio 32, chiuderà i battenti domenica 23 ottobre. L'elemento del colore si fonde con una profonda luminosità,